La vostra skin in base alla squadra del cuore, quarta puntata, ragazzoni vi ricordo che sul mio profilo ci sono tutte le altre squadre fatte e mi raccomando supportate la serie con un bel pollicione in su, un commentino con la vostra squadra del cuore, vi ricordo che faremo anche poi più avanti squadre estere e mi raccomando iscrivetevi. Oggi se ti fate inter la vostra skin è, vediamo che cosa esce, gli interisti avranno come skin, attenzione, oh la prima leggendaria della serie, lo squalo marroncino, quindi se siete interisti avete lo squalo marroncino.